benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 7 del livre rocher che valido fino al 13 giugno del 2018 vediamo la prima novità che è lo shampoo concentrato quindi dopo il bagno doccia anche lo shampoo perfetto per i viaggi per per spalmiare sull'ambiente e poi abbiamo anche le promozioni quindi uno più uno su tutti i prodotti concentrati abbiamo il nuovo siero delle idra vegetale il set per la cura del viso poi abbiamo le promozioni e i set sui solari e per finire le promo sulle matitoni glossy quindi direi di iniziare subito a sfogliare l'album eccoci qui con il nuovo album che vediamo subito la novità eco sostenibile e lo shampoo concentrato per i capelli quindi ed è 100 ml di prodotto valgono come una confezione da 300 cosa importante e poi è comodo da portarsi dietro magari in viaggio è più piccolo e poi va bene anche all'ambiente ha un eco valvola che quindi basta schiacciarlo una volta ed esce la giusta quantità di prodotto è un più o meno stesso principio del bagno doccia infatti e abbiamo la promozione uno più uno uguale a tre perché acquistando due prodotti tranquillamente tra lo shampoo oppure i devagli bagno doccia con le perfumazioni preferite ne acquistati due con il codice nero e il terzo in omaggio quello col codice rosso quindi potete anche farvi il set per i viaggi estivi vediamo ora l'altra novità eccola qua è il siero liquido ultra idratante della idra vegetale è un siero completamente senza siliconi parabeni olio minerali e coloranti però una texture è molto leggera liquida come acqua molto idratante perfetto per l'estate però che non appesantisce il viso prezzo promozionale di 12 95 infatti iniziamo con il set per il viso questo della super idratazione 16 95 con il siero liquido ultra idratante e il gel creme idratazione non stop per 48 ore si può anche scegliere 7 con la crema ricca idratazione intensa più ed è sempre il siero ultra idratante altri set per la cura del viso in questo caso gli struccanti lo struccante set delicato con lo struccante delicato occhi sensibili questo qua da 200 ml più quello da 100 quindi quello da casa più quello da viaggio da borsetta 9 95 tutte e due stessa cosa per i set con lo struccante bifasico che sapete che il mio preferito il grande più piccolo vediamo ora la promozione dei solari eccola qui perché acquistando i set solari che adesso vi mostro con l'acquisto di un solo set si ha a 3 euro l'acqua attiva bronzatura invece che 9 95 quindi è una buona promozione i set che adesso vi mostro sono questi eccolo qui il set con la spf 15 protezione media bassa con il latte spray protezione 15 il latte idratante 3 in 1 dopo sole a 18 95 oppure la protezione media con spf 20 sempre latte comfort più latte idratante 3 in 1 dopo sole 19 95 se no le spf 30 il latte comfort con potenzione 30 e il dopo sole 20 95 con la protezione 50 più con il latte comfort 50 più e latte idratante 3 in 1 dopo sole a 21 95 con il set acquistando un solo set anche 3 euro in più l'acqua attiva bronzatura che è molto comoda andiamo avanti con il set protezione viso questa è la protezione media quindi protezione 30 il trattamento anti-età più il trattamento sublimatore anti-età dopo sole 22 95 oppure la protezione alta 23 95 con il trattamento anti-età protezione 50 più il trattamento sublimatore anti-età dopo sole ma noi abbiamo il set ma noi che fa a parte sempre acquisto di un e di questi un e un set l'acqua attiva bronzatura a 3 euro allora il set ma noi 18 95 comprende l'olio secco sublimatore e l'olio secco prezioso ultimo set per lei è la promozione sempre dalla mano e che ha il l'olio secco sublimatore più l'acqua idratante profumata a 17 95 ultima promozione per questo album eccole qua sono i due matitoni glossi a 14 95 quindi sono uno col codice nero e uno col codice rosso e vedete che se a prezzo pieno uno costa 11 95 2 per 14 95 è davvero una grande promozione sono belli sono glossati sono perfetti da portarsi dietro per l'estate quindi molto carini e questo era tutto allora abbiamo sfogliato tutto il catalogo vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di i vostri brocchetti